Assessore Franco Cammina, a che punto è la percentuale di raccolta differenziata? Siamo arrivati al 74%. Come dato mensile, dato annuale invece, la media annuale? Intorno al 70%. Può ritenersi soddisfatto di questo risultato? Se dobbiamo fare una valutazione da quando ci siamo iniziati ad oggi, l'abbiamo presa al 23%, oggi in 74% possiamo dire che è un grosso risultato. Siamo pienamente soddisfatti, però con i rifiuti di solito urbano non si può essere mai soddisfatti perché ritengo che c'è sempre da migliorare, c'è bisogno che i cittadini collaborino ancora più di quanto non hanno collaborato, c'è un zoccolo duro fra attività commerciali e cittadini che ancora insistono a non volerla fare, saranno perseguitati, anche contro la nostra volontà, ma saranno perseguitati finché non riescono a capire che ormai questa città deve soltanto migliorare e raggiungere il massimo degli obiettivi. Ci sono ancora però dei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati quando verranno tolti dal territorio? Noi abbiamo gli ultimi quattro contenitori che stanno via Solfatara, prima della chiesa di San Gennaro, che dopo domani mattina, domenica, verranno tolti. Abbiamo successivamente altri pochi contenitori che stanno dall'aeronautica a scendere giù, per cui la settimana prossima saranno tolti tutti e possiamo confermare che abbiamo fatto l'informazione a tutta la città di Pozzuoli e abbiamo fatto la raccolta differenziata porta a porta per ogni utente. Assessore, c'è qualche piccola difficoltà nella distribuzione delle buste per che i cittadini possano effettuare correttamente la raccolta differenziata? È vero, abbiamo avuto un momento di blocco per quanto riguarda le buste. Adesso sono arrivate, abbiamo già consegnato la divizia e nello stesso tempo abbiamo detto che a partire dalla prossima settimana ci dobbiamo vedere perché non basta come un solo punto di raccolta che i cittadini devono andare allo sportello della divizia, ma dobbiamo trovare una soluzione su tutto il territorio dove si possa raccogliere queste buste nelle aree presidiate comunali in modo che il cittadino di Monte Roscello riprenda a Monte Roscello, quello di Toiano a Toiano, centro storico, centro storico e San Gennaro, San Gennaro, dobbiamo dare la possibilità ai cittadini di trovare la possibilità di prendere queste buste nella vicinanza delle proprie case. Grazie.